Siamo con Gabriele Marchese, dopo la conferenza stampa di ieri del sindaco di Siena Magnacca l'ex primo cittadino di San Salvo è qui per dire la sua sul contenzioso con licea. Io vorrei partire con uno degli elementi principali delle rivelazioni della Magnacca cioè la mancata esecuzione del recupero dei crediti che il comune ha con il consorzio ICEA dopo una sentenza che risale al 2007. Come mai il comune da allora non ha mai portato avanti questo recupero del credito? Io innanzitutto vorrei fare un appello e rivolgere un invito al sindaco e alla maggioranza di centrodestra che governa questo comune a non fare allusioni, a non speculare su questa vicenda e a non cercare di buttare dubbi e equivoci ai cittadini. Io credo che rispetto a questa vicenda l'intero consiglio comunale debba essere unito rispetto a un'idea che è quella di tutelare gli interessi di tutti i cittadini e non di pochi che volevano lucrare rispetto a una lottizzazione PEP realizzata un po' di anni fa alla Marina di San Salvo. Innanzitutto voglio dire che mi fa piacere che viene riconosciuta la mia tese. Cioè avevo ragione, nel senso che quando io ho detto che per il comune questa era una partita di giro che era stata affermata al Consiglio di Stato, anche l'attuale maggioranza ha riconosciuto questo. E qui non ci sono stati intrighi, non ci sono stati sotterfuggi, non ci sono state carte nascoste come qualcuno cerca di far passare. Gli atti sono a disposizione, ci sono le sentenze, tutta la documentazione è negli uffici comunali e quindi chiunque può e deve vedere. Rispetto alla domanda che mi facevi, allora la partita non è ancora chiusa, ancora oggi non è ancora chiusa. E questa affermazione l'ho fatto già un po' di giorni fa, in una intervista che mi ha fatto Orazio Di Stefano a San Salomare, ho detto che la partita non era chiusa, quindi il licea non poteva cantare vittorie e non può cantare vittorie. Tanto è vero che la delibera che domani fa l'amministrazione comunale è il riconoscimento di quel principio che ha stabilito il Consiglio di Stato dicendo che per il comune è una partita di giro. Quindi tanto prende, tanto devono dare le cooperative sostanzialmente. Questo è il principio che viene affermato e sulla base di questo si opera. Quindi per il comune, torno a ripetere, è tutta una partita di giro e quindi la partita non è ancora chiusa. Quindi domani il comune facendo, io non credo che bisogna riconoscere il debito fuori bilancio. Io molto probabilmente credo che riconoscendo il debito fuori bilancio il comune commette un errore, perché noi nel 2007 abbiamo fatto una ricognizione attraverso un atto del Consiglio comunale a seguito di una sentenza che dava ragione al comune. Io credo che il comune adesso debba fare la stessa cosa, cioè quello di riconoscere che c'è stata una sentenza. Poi il sindaco a mio giudizio deve svolgere un altro compito e in questo momento deve cercare, se esistono le condizioni, di trovare un accordo. E in questo momento, a mio giudizio, ci sono le condizioni favorevoli, perché visto che parecchi componenti del CEA sono dentro la maggioranza che governa questa città, dentro la maggioranza centro-destra. Se non riesce a trovare l'accordo, ma sulla base, accordo sulla base di quel principio che ha stabilito il Consiglio di Stato, se non riesce a trovare l'accordo, fare ricorso in Cassazione. Fare ricorso in Cassazione e cercare di far incrociare i due filoni giudiziari, cioè quello del Tribunale e quello amministrativo sostanzialmente. Perché il vero problema adesso di questa vicenda è che non ancora si riesce a far incrociare le due sentenze. Quindi c'è un difetto di giuristuzione. Quindi queste sono le questioni che io dico. Anche perché ci sono ancora due sentenze che devono essere emesse. Uno, abbiamo appreso l'altra sera, che ci sarà da parte del Consiglio di Stato l'11 febbraio del 2014. L'altra non ancora viene fissata nemmeno all'udienza. Quindi come si fa sostanzialmente a liquidare o a pagare? Quindi io credo che bisogna fare una ricognizione del debito e sostanzialmente cercare di trattare, se non ci sono queste condizioni, fare ricorso in Cassazione per tutelare gli interessi del Comune. Quindi io non farei il riconoscimento del debito fuori bilancio perché non lo vedo una cosa sostanzialmente opportuna. Per quanto riguarda invece l'esecutività della sentenza di cui parlava il Sindaco? In merito all'esecutività della sentenza credo di aver già risposto perché lì non c'erano sostanzialmente la partita non era chiusa. Quindi il nostro legale, noi abbiamo fatto il decreto ingiuntivo e non abbiamo messo in esecuzione la tendenza, anche sperando di arrivare a un accordo che poi sostanzialmente non c'è stato, ma anche perché c'era ancora un giudizio pendente alla Corte d'Appello e ancora due giudizi pendenti al Consiglio di Stato, come dicevo prima. Quindi mettere in esecuzione la sentenza non avrebbe senso, così come non riconoscere il debito fuori bilancio, perché anche qui c'è da dire che noi con la delibera del 2007 di Consiglio Comunale abbiamo iscritto in bilancio una spesa di 2.275.000 euro. Adesso si dovrebbe riconoscere la differenza. Quindi voglio risottolineare, è il principio quello che conta, nel senso che comunque il Comune da questa partita è un dare avere perché è stabilito che il 78% delle aree sono state utilizzate dalla cooperativa, dal licea, il 7% da una cooperativa, un'altra e tanto dall'altra cooperativa è il 5% e il 8% è inutilizzato perché sono lotti ancora che non sono assegnati. Tornando al lato politico, ora ci sarebbero le condizioni per un accordo tra il Comune e il licea. Questo però dall'altra parte avvalora tesi del Sindaco che fino ad adesso questi problemi sono sorti sulla pelle dei cittadini, per usare le sue parole, per litigi tutti all'interno del vecchio centrosinistra, del vecchio PC. Ma non mi sembra una cosa del genere. Innanzitutto il Sindaco, una serie di domande che si pone, potrebbe chiedere al suo vice sindaco, che conosce bene, che ha fatto per tanti anni l'amministratore del licea, ancora oggi molto probabilmente so che ha legami forti con licea, quindi potrebbe chiedere una serie di questioni al suo vice sindaco. Quindi io non ritengo che ci sono state contraddizioni, perché altrimenti il Comune non avrebbe fatto questi passaggi che sta facendo. C'è stata una linearità di comportamento e le amministrazioni che si sono succedute hanno difeso in maniera lineare e corretta gli interessi comuni. Adesso mi auguro che questa amministrazione possa fare altrettanto, non lasciando dubbi e incertezza all'opinione pubblica sostanzialmente. Allora io dico che siccome parecchi del consorzio ICEA sono gente di centrodestra, che stanno anche dentro l'amministrazione comunale, attualmente ci sono le condizioni politiche per trovare un accordo. Se il sindaco è capace, si adoperasse per chiudere questo accordo, sulla base però del principio che ha stabilito il Consiglio di Stato, che è una partita di giro, 78 licea, 7,5 l'altra cooperativa e 5,7 ancora a carico, il Comune non ha ancora assegnato. E comunque è una partita di giro, il Comune non deve tirar fuori nemmeno una linea. Se no, altrimenti l'altra strada è quella di andare in Cassazione, cercando di superare il difetto giurisdizionale che c'è stato fino ad oggi. Questa è sostanzialmente la strada. Dubbi, allusione e quant'altro, io le respingo al mittente. Qui si è adoperati alla luce del sole. Le carte sono chiare e non lasciano equivoci. Quindi il fatto di dire che non è stata messa in esecuzione la sentenza è una cosa che non esiste sostanzialmente, perché noi abbiamo fatto il decreto ingiuntivo, però c'erano ancora sentenze da parte di organi amministrativi, tipo il Consiglio di Stato o la Corte d'Appello, che si dovevano esprimere. Adesso si è spersa la Corte d'Appello, ma ci sono ancora due istituzioni che si devono ancora esprimere, come ricordavo prima, il Consiglio di Stato, che uno è stato già fissato e l'altro è ancora da fissare. Sempre parlando della vicenda politica, questa situazione che si è venuta a creare rischia di ripercuotersi sulla attuale maggioranza? Ma è un problema che a me riguarda relativamente, nel senso che è un problema che riguarda il Sindaco, perché eventuali conflitti di interessi sono all'interno della maggioranza che governa questa città di centro-destra. A me interessa tutelare gli interessi del Comune, gli interessi dei cittadini di San Salvo, e mi auguro che il Sindaco possa andare avanti su questa direzione. L'impostazione di domani in Consiglio Comunale, ho detto e ripeto, io ho qualche perplessità sul fatto che si faccia il riconoscimento del debito fuori bilancio, anche perché il Sindaco non può gridare al lupo al lupo, poi i soldi, l'avanzo di amministrazione, lo impegna per altre questioni e poi vuole fare il riconoscimento del debito fuori bilancio in maniera virtuale. Anzi, io dico, vado oltre, io dico che non bisogna riconoscerle il debito fuori bilancio, perché, torno a ripetere, la partita non è ancora chiusa sostanzialmente. Io credo che bisogna fare una ricognizione, come abbiamo fatto noi nel 2008, e cercare di trovare l'accordo e se non c'è accordo fare ricorso in castazione. Questa è la strada, chiara, linea e trasparente che il Comune deve fare. Però, torno a ripetere, il Sindaco si adoperasse e si spendesse con tutta la sua autorità, la sua autorevolezza, a chiudere e a trovare un accordo sulla base di quel principio. Le speculazioni, le allusioni, i dubbi e quant'altro, il Comune di Sanzalo non rischia nessun fallimento. Io voglio rassicurare i cittadini di Sanzalo, il Comune di Sanzalo ne rischia nessun fallimento, perché il Stato è in buone mani e mi auguro che lo possa essere anche oggi rispetto a una vicenda che è chiara e trasparente e che comunque per il Comune, comunque vado a finire, è una partita di giro. Questo è il presupposto, nel momento in cui io mi sono tranquillizzato, quando è stato stabilito questo principio dal Consiglio di Stato. Quindi domani al Consiglio Comunale Sanzalo Democratico voterà contro questo riconoscimento dei debiti? Questa è la posizione di Sanzalo Democratico, verificheremo anche nel corso del dibattito quando avverrà in Consiglio Comunale, però abbiamo forti dubbi e perplessità su come è stata impostata questa delibera e sulla linea che l'amministrazione comunale sta cercando di portare avanti in questa maniera qui, senza tener conto di quelle questioni che dicevo poc'anzi.